Aveva in casa pezzi dell'era mesozoica alla quaternaria coprendo un arco temporale che parte da 200 milioni fino ad 11.000 anni fa. Complessivamente 867 reperti esposti in una sala trasformata in un museo privato che si era creato illecitamente un medico di sciacca appassionato di dinosauri. Un vero tesoro paleontologico scoperto al termine di un'intagine dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale della Sicilia. Ipotisiamo che sia stato un raccoglitore diretto, quindi l'equivalente di un tombarolo però trasposto nell'ambito paleontologico. Non abbiamo motivi per ritenere che ci sia un'associazione più ampia, è soltanto un recupero fatto a seguito di un'indagine che ci ha portato ad una perquisizione domiciliare. Il collezionista è stato denunciato per illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato. Tra i pezzi più interessanti resti di un elefante nano e di un ipopotamo nano, entrambe specie estinte che in epoca preistorica erano diffuse in Sicilia. Il valore è ingente, soprattutto perché questi pezzi possono essere venduti ormai a livello mondiale e a seconda delle località naturalmente e dei modi possono raggiungere valori molto alti. L'intero quantitativo potrebbe arrivare anche a un centinaio di migliaia di euro. I reperti paleontologici, così come quelli di natura archeologica, appartengono allo Stato. Chiunque ne viene in possesso, anche in maniera fortuita, all'obbligo di farne denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco oppure all'autorità di pubblica sicurezza. Nei prossimi giorni i militari dell'arma consegneranno i fossili al Museo Geologico Gemellaro di Palermo. Un acquisto prezioso per la collezione dell'importante istituto museale, patrimonio della cittadinanza e a disposizione di qualunque studioso voglia approfondirne la conoscenza storica. Grazie.